Cazzo che dall'accento si capisca che non sia proprio autottono. Beh si tipo da Bolzano esatto. Bergamo Alta. Bergamo Alta. Bene eccoci qua per la rubrica quattro passi in cucina oggi siamo a casa di Angelo un neopapà come noi. Angelo da quanto tempo sei diventato papà? Cinque mesi. Eccolo qua cinque mesi, lui è papà di Aurora e oggi ci farà vedere come si prepara questo pezzettino di carne eccolo questo pezzettino di carne qui con l'affumigatore. L'anno 2017 a Merano e lì c'era un brocchioschetto che faceva rosto affumicato. Mi sono innamorato praticamente di questa Roma così intenso e dedicata allo stesso tempo. Abbiamo la carne soprattutto, ammo fare le grigliate, basta organizzarsi sostanzialmente. Allora spiegaci un po' come va preparata la carne? La carne tua hai preso la carne e l'ha massaggiata? No, più che altro prima l'abbiamo rifilata in modo da fare entrare per l'unico e poi abbiamo fatto un po' la pellemora che serve l'affumigatore che non consentirebbe di penetrare le spezie. Poi è appunto una bata, quindi ho preparato un mix di spezie e così via. E niente adesso andiamo a preparare il nostro fumigatore. Abbiamo già un piccolo cammino d'accensione con la brancetta. Vediamo il cammino d'accensione. e andiamo a versare, ecco qua, andiamo a versare quello tenuto. Vediamo che è vicino a delle altre brancette. Sì. Ok, ecco qua. Perfetto. Mi assicuro che fa caldissimo. Adesso, ecco qua. ovviamente qui davanti c'è la temperatura. La temperatura a quanto deve arrivare? Allora, la temperatura di cottura sarà circa di 110 o 120 gradi. Adesso dobbiamo aspettare che salga più di 120 gradi, poi aggiungeremo l'acqua calda e andremo a mettere le nostre costine. Ah, perché abbiamo detto che tipo di carne è? Sono delle costine di maiale. Costine di maiale, perfetto. Quindi se tu trasmetti l'amore per la buona cucina, automaticamente il tuo figlio o tua figlia assumerà questo. Mi assicuro che è di sempre. Ma la posizione, la posizione che assumono così in verticale non dipende, non è come la Fiorentina, per esempio, che va messa in verticale per cuocerla. Cioè, questa è soltanto per una questione di spazio. Sì, 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 assolutamente. Anche perché l'affodicatore, comunque, si cuoce a temperatura di costo passa, perché difficilmente andiamo a superare i 120 gradi. Quindi abbiamo lo sciogliettico. Ok. Vedi, chi l'ha detto che soltanto le mamme sanno cucinare? Anche i papà sanno cucinare. E questo non è un messaggio diseguativo, ma è un momento di pause e di relax che dobbiamo concederci. Ok, ora aggiungiamo la temperatura che ci interessava. Adesso andiamo a mettere... Perfetto. L'ho portata a oltre 120 gradi, perché comunque, un'oltre aperte il coperchio, la temperatura è inevitabilmente a prenderla a precintare. Certo. Adesso vado a mettere nella vaschetta che c'è all'interno un'acqua salva, meglio bollente, come in questo caso. Ok. Diciamo di riempirla fino a metà. E andiamo a mettere. Andiamo a mettere i guanti, che mi assicuro seguono. Però noi siamo padri rudi e bassi. E non abbiamo paura di scottarci le mani. Ovviamente non avevo mai toccato una pentola in vita mia. Dunque, questi legnetti è la parte, dicevamo, più importante dell'affumicatore, giusto? Perfetto, perché sono quelli che conferiranno l'aroma di affumicato alle nostre costine. Ecco. Come le hai messe qui? Come le hai trattate? No, semplicemente bagno in acqua. Sono delle semplicissime chips di legno di melo. Quindi legno non trattato. Ovviamente non usate il vino o la bete, perché altrimenti, oltre ad andare in ospedale, buttate la carne. Anzi, oltre a buttare la carne, andate all'ospedale. Viceversa, certo. Ovviamente l'assaggiate, buttate la carne e andate all'ospedale. Entrambrevo. Quindi adesso lo andiamo a mettere per conferire l'aroma di affumicato alla carne. Sì, esatto. L'abbiamo venuta al bagno. Ecco, qui sotto si vede bene la carne. Esatto. È stata infilata da sopra. Ah, giustamente, ma ne bastano veramente pochi che bastano. Sì, 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 perché comunque l'aroma di affumicato è piuttosto intensa. Diciamo, non so se l'abbiamo già detto, lui l'ha messa a bagno con l'acqua. Sì, da circa un'ora prima di mettere a cuocere la carne. Eh, bravo. Diciamo anche che ore sono adesso. Sono le ore 15, giusto? Sì, sì, sì. Perché la carne in questo modo cucina per quanto tempo? Allora, queste costine le cuoceremo in tutto per circa cinque ore. Due ore le cuoceremo così. Sì. Poi per circa un po' di ore le cuoceremo con la stagnola, con sparse di salsa barbecue. che ho preparato io ieri. La restante ore successiva servirà per farne rosuare un po'. Benissimo. Sigaro, ciavò. E pure una birra. Ovvio. Esatto. Quindi ho sfido, ho sfido tutte le madri youtuber a riuscire a fare tutto questo. Più oltre a avere tutta la pazienza che abbiamo noi a stare tutte queste ore davanti al fumigatore. Esatto. Io credo che proprio non ci riescono. Ma è una scritta che lanciamo a tutte quante le madri youtuber. Lo so, certo che ci riusciranno. Eh, lo so, eh. Grazie. 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 Grazie.